Facciamo attenzione a non diventare cristiani pagani, cristiani dell'apparenza, che si abituano alla mediocrità e diventano tiepidi. Sono nemici della croce di Cristo e il loro cammino di mondanità li porta alla corruzione. Così Papa Francesco, nella messa del mattino celebrata nella cappella di Casa Santa Marta, ha commentato la lettera di San Paolo ai Filippesi inserita nella liturgia del giorno. Anche oggi ne sono tanti. Anche noi dobbiamo stare attenti di non scivolare verso quella strada dei cristiani pagani, cristiani nell'apparenza. E' la tentazione di abituarsi alla mediocrità. La mediocrità dei cristiani, di questi cristiani, è proprio la sua rovina. Perché il cuore si intepidisce, divengono tepidi. E ai tiepidi il Signore dice una parola forte. Perché sei tiepido, sto per vomitarti dalla mia bocca. molto forte. Sono nemici della croce di Cristo. Prendono il nome, ma non seguono le esigenze della vita cristiana. Mi piace vantarmi. Mi piacciono i soldi. Mi piace l'orgosso. la superbia. Dove ho le mie radici? Cioè da dove sono cittadino? Nel cielo o nella terra, nel mondo, nello spirito mondano. La nostra cittadinanza è nei celli. E di là aspettiamo, come Salvatore, il Signore Gesù Cristo. E la loro sorte finale sarà la predizione. Questi cristiani verniciati finiranno male. Ma guardate alla fine. Dove ti porta quella cittadinanza che tu hai nel tuo cuore? Quella mondana alla rovina. Quella della croce di Cristo all'incontro con Lui. All'incontro! All'incontro con la prece! A presto! Lo vero.